e' l'oggin loot, arrivo da pochissimo vieni facciami i totem vieni seba eh non so se si aspetta madonna adesso ci arriva una cecchinata e con un colpo ci fanno fuori tutti e tre dicono che nella prossima part comunque voglio mettere il lancio granate sotto camma si si che poi sicuramente per esplodere la granata andrai a due frame al secondo ma voi vi immaginate tipo giocare insieme a vratto e marmotto con la granata cazzo marmotto non lo deve sapere nessuno gli faccia vedere eccoci ciao a tutti let's go chi e' che c'ha la m4 va avanti ma non mi ricordo in che direzione ha il dormito muro a sinistra fino a ieri ho giocato che andavano a 144 fps quarantesi fortnite veramente il giorno che risolveranno se risolveranno il problema delle connessioni sarà un bel giorno ci ritroviamo tutti quanti tutta la comunità di sarcov italiana a festeggiare con champagne si con tuscionca si arriverà quel giorno contattiamo la butter state e ce la facciamo regalare un qualche chilo di tuscionca rock non moriva più sto stronzo vabbò nei frame che carano quando miri per fps ma viene un saiga Sì, con te che mi ha rotto la gamba Chi è che spara? Ehm, Cooper che mi fa gli scherzi Però che io sono debole di cuore, quindi Raga, chi è che sta scappando verso destra? Non so, siamo in due Aspetta, ok, siete in tre Sto raggiungendo io dall'altro lato Oh, no, lo scappo Bababia, cestino lavico, 50 mila Quanto lag Invece ne serve gli americani, ma hanno abbastanza Bene Ma è una bugia quella Si vede solo di stream e basta Beh, ma come pu... Cioè, io dall'assieme vedo Quello che seguo io, non ha pochissimi lag Su shoreline No, comunque dipende Secondo me se stream Ma non so che è deadly Cosa C'avranno 32 giga C'avranno 32 giga C'avrò 32 giga di ramo Con quel è un po' meglio Un po' E quando non ce l'hai carica al cento per cento, è uguale, scusa Sto andando sul tetto comunque Eh, sto seguendo Lascio la porta aperta Chiudo la porta aperta Ah già, non si può correre quando c'hai la ferita appena aperta Rip, scav Chi è che sta guardando anime Lo sento Eh, dalla sinistra del... Verso l'elicottero Alla sinistra dell'elicottero, ok Sì, non lo vedo ma l'ho sentito Madonna, col mirino Ah 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 Mi è passato un colpo vicinissimo Madonna quando scoppiano le granate le guardo Credo... Muso... Sì, alla sinistra, mi sta sparando Allora, stai liberando Ma poi senti gli sca... Sì, sulla sinistra Sì, sulla sinistra È andato dietro le rocce alla sinistra dell'elicottero Fuori Ah! C'è un altro No, me la sono buttata sotto i piedi Il buggy, il buggy Il buggy Corri Sono riuscito a scappare Ma cosa sta succedendo? Mi stanno tirando Marmotto revenge Stanno tirando anche a noi, giustamente Marmotto... Una vendetta Abbiamo trovato il nostro marmotto contro Ah! Mi ha ucciso una granata Nooo, ancora Eeeh! C'è un cercello bombardato con le granate Sai, non... Può succedere di morire Non è che si tira per fare festa, ecco Ah, che... Io mi butto di sotto Lo vedo, lo vedo, lo vedo In fondo... Da dove sono arrivati? Sono morto Da dove siamo arrivati? Ho un altro ancora Sì, è che... Max, buttati Sì, è che... Max, buttati! No, no, no! Ma che cazzo? L'i82 Sì, l'i82 C'è qualcuno sulla porta Che cosa dici? Max, sei vivo? Cosa? Cosa? Si! è il tuo main sono arrivato ora si max sei vivo io sto scappando sono in cucina ma mannaggia te e sto cercando di flancare in qualche modo scusa è sempre quella stavo cercando di flancare dove siamo arrivati dal tetto io no non ce l'ho spesso dietro al cinema fai importare o ne ho visto uno sul tetto no sono scappato io sono sotto le scale dell'altro tetto se te che spari allo scav si ho sparato uno scav in mezzo al giardino io sono accanto a una stata uno è sul tetto è quale tetto è quello dove eravamo noi sì sì ma te l'ho detto 20 volte che era la porta eh sì infatti mi ero già buttato quando hai detto che era la porta se sei che corri qui sono vicino allo scav che non muore quello in mezzo a casa nel parco c'è uno dentro vieni oltre il muro se riesci verso il rock passage ti raggiungo l'ho l'ho ucciso o è cascato hanno aumentato le infanzia o è una mia lezione no non l'ho ucciso perché continua a sparare al muro sei tu fuori si sono fuori oltre il muro io c'è uno dentro te sei dentro no sono in dritta ok c'è uno dentro m'ha ucciso e vabbè ti spari un caricatore io non so cosa devo fare però per ucciderlo ti spari tu lo caricatore l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso madonna io la porto a zero dopo che si sono uccisi tutti ah l'ho ucciso devo ricoprare lo zaino porca vasce ma c'è una body armor che non sale a più di 44 45 è il massimo adesso ah ok no perché era 44 su 59 eh sì ora non si può più riparare 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 immagino che non arriverà mai sul console sto gioco giusto eh no per dire di no troppi comandi è troppo pesante anche troppo più troppi problemi è troppo bello per i consolari cioè guardo offline come va fluido è troppo pesante è troppo pesante io l'ho preso letteralmente con 100 colpi questo ed è ancora vivo no io li vedevo solo il viso ce l'avevo davanti letteralmente con due caricatori da 50 nel viso l'ho preso porca puttana immortale ma sei morto no it count 22 serio? da quanto pare va bene dicendo che non scherzava sei vivo super get good però ciao a tutti ciao a tutti